ciao sono lei la gruppo paolo di tasso sono brasiliana sono in italia da 25 anni e mi sono sempre interessata di spiritualità pur in brasilia sono spiritista da piccola da bambina ho fatto la traduzione del libro paolo stefano all'italiano portoghese psicografato da chico xavier attraverso emanue sulla sua guida che posso dire io sono stata sovrintendente di una casa di cultura in brasile sono sempre stata artista plastica nel senso che dipingevo dipingo ancora ho avuto un laboratorio di ceramica qua in italia e dopodiché dopo la morte di mio marito mi sono diciamo messa a divulgare lo spiritismo qua in italia non per creare una chiesa un dogma una una religione ma per divulgare proprio i messaggi che alan kardec ha ricevuto dal mondo spirituale e questo questo messaggio è di consolazione di amore di intendimento non solo per noi ma per tutta la collettività dove viviamo e non vogliamo creare proseriti assolutamente vogliamo solo informare e questa forma di informare gratuita è sempre disponibile verso gli altri e siamo qui per qualsiasi informazione abbiamo gruppo di facebook è un gruppo polo di tarso siamo insieme con lo specchio d'anima e la casa di timotio con la fidis che alla federazione spiritista italiana e stiamo qui a divulgare e a rispondere le vostre domande dentro del possibile perciò buona giornata e un bacione a tutti grazie